oggi vi mostrerò come pulire la salicornia quest'alga anticamente veniva definita il sale dei poveri o asparago di mare la quale si trova in acque salmastri o sul suolo marino eliminiamo dalla branca interna i ramoscelli posti esternamente quest'ultimi verranno sciacquati sott'acqua corrente per eliminare eventuali tracce di sabbia nel frattempo prendiamo un pentolino capace riempiamolo d'acqua e portiamolo a bollore una volta raggiunta la temperatura immergiamo la nostra salicornia tra gli 8 e 10 minuti circa così facendo perderà un pochino della sua salinità trascorso il tempo indicato precedentemente trasferiamo l'alga all'interno del contenitore con acqua e ghiaccio preservando così sia la colorazione che di conseguenza blocchiamo anche la cottura dell'alimento e per finire togliamo l'anima interna perché può risultare legnose stopposa nel palato di chi la mangerà grazie per aver visto e ascoltato rosso peperoncino mi raccomando seguitemi anche su instagram hashtag rosso peperoncino 18 se vi è piaciuto il video ma non la spiegazione mi raccomando cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui futuri video che usciranno condividi con parenti cugini compari nipoti e scrivete che delizia mi raccomando vi aspetto di leggere numerosi commenti e nooo grazie ancora